Pronto? Pronto, parlo con Freezer? Sì, sono io. Ciao Freezer, sono il Papa. Guarda, non sono in vena di scherzi, è impossibile che il Santo Padre si abbassi a telefonare uno come me. Non fare lo sciocchino, Freezer, guarda che sono davvero il Papa. Oh, Papa Francesco, mi perdoni, non pensavo che lei fosse così umile da telefonarmi. Ti ho chiamato perché volevo dirti che la guerra è sbagliata. Santo Padre, deve esserci un'interferenza, ho capito che la guerra è sbagliata. Non c'è nessuna interferenza, proprio ha detto che la guerra è sbagliata. Mi perdoni, ma guardi che la guerra è sbagliata. È giusta, vede, faccio la guerra, conquisto la galassia, la gente subisce il mio regime di terrore, la gente è felice. No, la gente sotto il regime di terrore non è felice. Che sta dicendo? La gente sotto il regime di terrore è triste. Non la seguo. La gente sotto il regime di terrore è drisde. Oh, santo cielo, la gente sotto il mio regime di terrore è triste, ma allora... La guerra è sbagliata. Che incriscioso malinteso. La guerra è sbagliata. Io pensavo che alla gente piacesse essere schiavizzata. No, no. E che fosse felice di soffrire. La gente che soffre è triste. Capisco, e mi dica di più, sua santità. Ad esempio, alla gente piace essere frustata. No, la gente frustata è triste. Perfetto, e per caso alla gente piace morire di fame? No, la gente che muore di fame è triste. Lo sapevo, alla gente non piace morire di fame. Quante cose che mi sta insegnando, santo padre? Quindi ora devi fare... Devo sempre dare da mangiare ai miei sudditi. Bravo. Averli frustati. No, no, no. Senza frustarli, senza. Senza frustarli. Perché le armi sono sbagliate. Le armi sono sbagliate. Quindi anche i nameciani non dovrebbero usarle quando li attacco. Le armi sono sbagliate. Ci sarebbe stata nessuna guerra se i nameciani si fossero arresi. La guerra è sbagliata. Quindi possiamo dire che la colpa è un po' di tutti e due. La guerra è sbagliata. Grazie, santo padre. Guardi, io non sono un credente, però è indiscusso che le sue parole siano un faro di saggezza per tutti. Prego, prego, arrivederci. Babadoia. Scusi, santo padre, perdoni l'orario tardo. Mi era sorto un dubbio. Sto pensando di distruggere il pianeta dei nameciani, così non ci sarebbe più nessuna guerra. Lei cosa ne pensa? La guerra è sbagliata. Perfetto, la ringrazio, è quello che pensavo anche io.